La variante Omicron viaggia a ritmi sostenuti, crescono velocemente anche i contagi tra i bambini, soprattutto quelli nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, tra i quali la percentuale dei vaccinati è ancora bassa. Numeri che si leggono in modo particolare negli studi dei medici di pediatri di fiducia che negli ultimi giorni hanno incrementato il numero di segnalazioni della positività dei piccoli pazienti sulla piattaforma Sinfonia. Per il pediatra di libera scelta dell'Asla di Salerno, il dottor Pio Vicinanza, è pur vero che i sintomi dei bambini sono lievi, con un basso numero di ricoveri se non in presenza di altre patologie, ma allo stesso tempo ancora non sono esaustive le informazioni sulla contagiosità del virus e sul ruolo che giocano i bambini e gli adolescenti nella trasmissione del Covid e sui possibili disturbi che potrebbero derivare anche dopo la guarigione. Dobbiamo monitorare la situazione e ritenere fondamentale la campagna vaccinale, ha dichiarato ai nostri microfoni il dottor Pio Vicinanza. La situazione è abbastanza complessa, anche perché ha raggiunto un numero veramente notevole di bambini, fino a 7-8 a volte bambini Covid positivi in una stessa classe. È migliorata soprattutto un pochino nelle festività natalizie, ma ha ripreso subito adesso. Infatti siamo costretti a un lavoro enorme di segnalazione di questi bambini positivi sulla piattaforma Sinfonia Covid e seguire poi questi bambini a casa sia tramite telefono ma anche a volte visitandoli per valutare delle situazioni un po' più sgradevoli. Quindi per fortuna i bambini hanno una reazione abbastanza buona, riusciamo a curarli a casa. È raro che un bambino venga ricoverato, però può succedere. Bisogna dire alle mamme, quindi stimolarle a prepararsi, a preparare i bambini, a vaccinarli dalla fascia di età anche di 5-11 anni, che poi quella forse è più colpita in questa fase. Che tipo di sintomi riscontriamo nei bambini affetti da Covid? Si vanno dai sintomi più importanti, come la febbre alta per 2-3 giorni, ai sintomi respiratori, con tosse, raffreddore, dispnea e poi ai sintomi anche più banali. Molti sono anche asintomatici che riescono anche a frequentare la DAD perché sono in condizioni tali da poter, stando a casa, continuare a studiare a distanza. In questo momento febbre, tosse, raffreddore potrebbero confondere anche le famiglie, magari pensare che sia una febbre stagionale, che è anche un periodo dove c'è anche la bronchiolite che ancora circola. Certo, il pericolo è proprio questo, ma devo dire che le mamme sono molto attende e sono molto allestate sul problema Covid, quindi sono loro stessi che poi chiedono di fare subito un tampone per assicurarsi che non sia una patologia da Covid, ma una patologia banale simile, influenzale o influenzale. In questo momento pare, almeno dai dati che leggiamo, che c'è una certa contrazione da parte delle mamme che non proprio favorevoli e disponibili a vaccinare i bambini, soprattutto nella fascia sotto i 15 anni. Sì, mentre è stato molto più semplice per gli adolescenti, per i ragazzi dai 12 anni in poi, è più complicata, ma qui con l'opera del pediatra, di fargli capire l'importanza, anche in questa fascia di età, di praticare la vaccinazione per il Covid. È l'unica arma di difesa. Non devono sottovalutare il fatto che siano piccoli e quindi non possono andare incontro a patologie gravi, perché ricoveri per patologie da Covid respiratorie ci sono anche in quella fascia di età. Anche perché ancora non ci sono dati scientifici alla mano, ma il Covid potrebbe provocare danni anche post, non necessariamente durante? Esatto, sì, ci sono delle sindrome post-Covid che si verificano addirittura a distanza di 15-20 giorni, anche un mese dal Covid, che sono altrettanto importanti e sono poi patologie che si possono postare per tutta la vita.